Cosa stanno costruendo? Il San Paolo, che nel 1997 sarà la più grande banca d'Italia. Attenzione! La prima nel risparmio gestito per totale attivo e per depositi. Come fai a saperlo? Sei nostra Danz. Con i suoi uomini coprirà tutta Italia, con 1200 sportelli. Sportelli, cosa sono? Beh, questo lo ignoro. Istituto Bancario San Paolo di Torino, un primato che nasce dagli uomini.